...segna il pomo a parire, mentre invece ai lati, in visita ai tanti lavori, possiamo notare quattro diversi paesaggi. Sia l'ottagono che i paesaggi sono riconducibili al maestro di scuola napoletana, però se l'ottagono si rifà in paragonabile alla scuola di Jacinto Diano, i paesaggi sulla scia di Vernet sono paragonabili alla scuola di Carlo.